Ancora un incendio a scansanoionico dopo i due stabilimenti balneari, la baia delle scimmie e la chicca stanotte dato alle fiamme il magazzino dell'azienda ortofrutticola Suriano. Operazione dei Carabiniere all'Aulia dove era stata messa in piedi una fitta rete di usura a danno di imprenditori e cittadini, tassi usurai fino al 120%. Il salva potenze e veleni politici all'interno della Lega dal partito cittadino levata di scudi contro i consiglieri regionali salviniani e l'invito al vice segretario Zullino a dimettersi. Dopo lo stop causato dal Covid, il 29 maggio torna la storica parata dei turchi, l'evento presentato stamane in una conferenza stampa. Saranno più di 1200 i figuranti che vi prenderanno parte. Calcio di serie deal, Francavilla conquista la finale dei playoff, battuta la Nocerina in rimonta, domenica la sfida contro il Bitonto. Buon pomeriggio e ben ritrovati con l'informazione sulla nuova tv. Lo avete sentito dai titoli in apertura nel nostro Tg Cella Cronaca con il quarto atto incendiario in meno di due settimane a Scanzano Ionico. Dopo i due stabilimenti balneari, la Baia delle Scimmie e la Chicca, questa notte è stato dato alle fiamme il magazzino dell'azienda Ortofrutticola Suriano, la prima a lanciare sul mercato la fragola Candonga. Sentiamo tutti i dettagli da Fabrizio Di Vito. Scanzano Ionico senza pace, ennesimo incendio doloso nella città ionica, il quarto nel giro di meno di due settimane. Dopo gli stabilimenti balneari, la Baia delle Scimmie e la Chicca, nella notte scorsa i gnoti hanno preso di mira il magazzino dell'azienda Ortofrutticola Suriano, la prima a lanciare sul mercato la famosissima fragola Candonga, uno dei simboli del metapontino. Il rogo, secondo i primi accertamenti, sarebbe partito dall'esterno dove si trovavano impilate le casse della frutta per poi raggiungere la struttura e distruggere completamente il capannone. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco che hanno provveduto a domare le fiamme, sono intervenuti i carabinieri e la polizia di Stato con la squadra della scientifica. In corso le indagini per risalire responsabili, come nelle precedenti occasioni si tratta quasi certamente di atti intimidatori, riconducibili alla presenza della criminalità organizzata lungo la costa ionica lucana. Una decina di giorni fa, lo ricordiamo, era andato distrutto il Lido, la Baia delle Scimmie. Pochi giorni dopo, in rapida successione, invece due incendi avevano interessato un altro stabilimento balneare, La Chicca, in località Terzo Cavone. Ora un nuovo atto incendiario contro il comparto agricolo, il primo ad essere preso di mira negli anni scorsi dai clan operanti tra Scanzano ed Intorni. Già nell'estate del 2020, all'interno dello stesso magazzino dell'azienda Suriano, era andato in fiamme un trattore. Ora aspetterà gli inquirenti fare chiarezza su questa incredibile escalation criminale nel metapontino. E andiamo avanti con la cronaca. Operazione dei Carabinieri oggi a Lauria, dove era stata messa in piedi una fitta rete di usura a danno di imprenditori e cittadini. Al termine dell'operazione Zero, condotta dai militari della compagnia di Lago Negro, sequestrati beni del valore di 100 mila euro, nonché una società data in gestione ad un curatore fallimentare. Le vittime, imprenditori e cittadini del luogo erano costretti a saldare i debiti con un tasso usuraio del 120% annuale. L'operazione ha preso il via nel mese di marzo 2020, oggi l'esecuzione di due ordinanze, una di custodia cautelare e l'altra di divieto temporaneo dell'esercizio degli uffici direttivi delle imprese coinvolte. Le indagini sono state coordinate dal procuratore della Repubblica di Lago Negro, Gianfranco Donadio, e dalla PM Francesca Fresh. E ora parliamo del salva potenza e dei veleni politici all'interno della Lega, dal partito cittadino levata di scudi contro i consiglieri regionali salviniani e l'invito al vice segretario Zullino a dimettersi ed è scontro anche tra Sant'Arsiero e Galella. Sentiamo tutti i particolari da Celestino Benedetto. Gli echi del salva potenza e il maxi contributo economico di 40 milioni di euro concesso dalla regione al capoluogo per evitare il dissesto, continuano a far sentire i propri effetti. Le defezioni palesate con voto di astenzione dei consiglieri della Lega Zullino e Aleandro, oltre al voto contrario di Viziello, del forzista Piro e del meloniano Leone, hanno creato non poche fibrillazioni. In casa Lega l'imbarazzo è evidente, ad ufficializzarlo con tanto di richiesta di dimissioni del vice segretario Zullino sono gli assessori Blasi ed Ottavio, il segretario cittadino e i consiglieri comunali, dito puntato contro i banali e di corto respiro interventi di puro campanile. Per questo spiegano, siamo pronti ad autosospenderci, ma a scontrarsi seppure a distanza sono anche l'ex sindaco Santarsiero e l'assessore alle attività produttive Galella. Il post, scritto da quest'ultimo, con chiari riferimenti alle eredità amministrative passate, a tutto danno dei potentini, ha innescato la reazione di chi il capoluogo l'ha governato per dieci anni. Ci vuole coraggio a scrivere un post di questo tipo, da parte di un protagonista, degli ultimi otto anni di vita istituzionale di potenza, ha detto. E dopo aver fatto un dissesto politico, sperperato con De Luca 42 milioni ricevuti dalla Regione. Passiamo all'emergenza coronavirus. Dal 18 al 24 maggio scorso in Basilicata si registra una performance in miglioramento per i casi attualmente positivi per 100.000 abitanti, 5.130 rispetto ai 5.310 della settimana precedente e si evidenzia una diminuzione dei nuovi casi del 33,9% rispetto al periodo 11-17 maggio scorso. Sono questi alcuni dei dati più significativi diffusi dalla Fondazione Gimbe dopo l'elaborazione dei dati raccolti durante il monitoraggio sull'andamento della pandemia. Sopra la media nazionale posti letto in area medica del 16,3% ma in evidente diminuzione rispetto al 20,6% di sette giorni fa mentre sono sotto soglia quelli in terapia intensiva all'1,3% occupati da pazienti Covid-19. Intanto nel bollettino di ieri un decesso, si tratta di un uomo di 74 anni di rotonda e 240 contagi a fronte di 1.307 tamponi processati. In evidente flessione nel bollettino di ieri anche il numero dei ricoveri 54, 33 al San Carlo e 21 al Madonna delle Grazie con un solo posto occupato in terapia intensiva a Potenza. Ed ora parliamo di edilizie sisma bonus. Le costruzioni in legno possono costituire una valida alternativa ma in Basilicata sono ancora poco diffuse. E quanto è emerso in un convegno promosso da Ance e Basilicata a Potenza? Ce ne parla Michelangelo Russo. Una risorsa valida ma ancora poco utilizzata in Basilicata a Potenza al Teatro Principe di Piemonte il convegno dell'Associazione Ance insieme agli ordini professionali di architetti, ingegneri e geometri per divulgare le opportunità in termini di costi, tempi e soprattutto sostenibilità derivanti dall'impiego del legno come materiale da costruzione. A presiedere i lavori il presidente dell'Ance e Basilicata, Vincenzo Auletta, che ha messo in evidenza i benefici di un investimento del genere alla luce della forte diffusione degli interventi di adeguamento antisismico. L'investimento che in genere si fa sul territorio viene fatto nel tempo quindi con modalità costruttive che si protraggono nel tempo partendo dall'acquisto del terreno, poi man mano si fa la recensione, le fondazioni, un po' di murature e quant'altro. Ovviamente la tecnologia del legno prevede tempi esecutivi molto più rapidi e veloci quindi un pochettino in contrasto con queste modalità tipiche del territorio. Rispetto invece agli attuali tempi legati agli interventi dell'eco bonus e sisma bonus ben si caratterizza proprio per la tempistica di esecuzione e poi per la risposta sia in termini sismici che in termini energetici. Il legno garantisce un alto livello di isolamento termico e acustico nonché un'ottima resistenza alle azioni sismiche. Dal Trentino in giù non mancano le esperienze di successo nel settore. la X-Lam Dolomiti per esempio è un'azienda leader del campo delle costruzioni di legno ma anche la Basilicata è una terra dalle grandi potenzialità. Allo Stato dell'arte in Italia ad oggi siamo intorno a un 7% del costruito per cui quasi un edificio su 10 è già costruito in legno e è un mercato in forte crescita e di fortissima prospettiva. Di sicuro la Basilicata può avere grandi potenzialità, ha comunque dei livelli climatici simili a tante regioni del nord. c'è un bel sviluppo immobiliare che si sta morendo. Abbiamo molto interesse arrivato da alcuni immobiliaristi per costruire dei grandi interventi in legno pertanto di sicuro anche la Basilicata ha buone potenzialità. Ed ora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità. La ITMSRL opera dal 1997 su tutto il territorio nazionale ed internazionale. Siamo specializzati nella progettazione e realizzazione chiave in mano di capannoni struttura metallica, il legno lamellare, cemento armato e celle frigorifera d'uso industriale. Assistenza post vendita qualificata, sopra luoghi gratuiti, innovazione, tecnologia e lunga esperienza. Per informazioni 392 02 08 806. Dopo la pubblicità parliamo di trasporto ferroviario. Anche gli intercity fermeranno a Maratea. Le fermate saranno attivate dal 12 giugno al cambio orario estivo. A renderlo noto è l'assessore alle infrastrutture Donatella Merra, la quale ha inoltre ricordato che anche i treni regionali che attraversano il territorio di Maratea, compresi quelli istituiti e di competenza delle regioni Campania e Calabria, fermano già nella stessa stazione di Maratea e in quella di Acquafredda. Abbiamo voluto potenziare il servizio dei treni per l'estate come richiesto dal sindaco di Maratea Stoppelli e dalle associazioni degli operatori del settore turistico. Ha sottolineato la Merra in vista dei maggiori flussi di traffico estivi ma anche per rimediare i disagi dei cantieri sulla Statale 18 che in ogni caso a partire da giugno sarà riaperta ai veicoli come già preannunciato nei giorni scorsi. Quale scuola per gli studenti del XXI secolo? Questo è il tema al centro dell'incontro promosso dalla FIDAP al Polo Bibliotecario di Potenza. Un dibattito a più voci per fare il punto sulla riforma scolastica lanciata dal Ministro dell'Istruzione Bianchi. Ce ne parla Isabella D'Andrea. Le nuove sfide educative al centro del dibattito a più voci promosso dalla FIDAP al Polo Bibliotecario di Potenza incentrato sulla riforma scolastica lanciata dal Ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi che per la prima volta nella storia legislativa del suo ministero ha coinvolto i rappresentanti istituzionali degli studenti eletti nelle consulte, nell'elaborazione delle proposte di riforma quanto mai necessarie. Il sistema scolastico attuale è fondato su sistemi che sono, a mio parere, abbastanza antichi. Noi insegniamo a dei ragazzi che sono del XX secolo con docenti che hanno avuto una didattica di molto tempo fa e i nostri docenti per la maggior parte delle volte sono del secolo precedente quindi è una didattica abbastanza antica, vecchia che non si attua per bene a quelle che sono le esigenze attuali degli studenti. E dalla consulta degli studenti arrivano le proposte per rilanciare la scuola e adeguarla alle nuove sfide. Sicuramente un'inclusione maggiore, un rapporto diverso tra docenti e alunno. Spesso gli alunni hanno proprio paura di quello che potrebbe essere un compito, un'interrogazione. Non si capisce che effettivamente il compito e l'interrogazione sono cose che vengono fatte per la crescita personale quindi non è assolutamente una punizione o altro. È vista la scuola come un luogo di una gabbia, una sorta di prigione obbligatoria fino ai 16 anni però se le cose si possono fare per bene, se le cose si possono far intendere come prioritarie non credo che da parte degli studenti ci possa essere un rifiuto di questa scuola. Sicuramente bisogna stare al passo con i tempi e soprattutto rispettare quelle che sono le esigenze degli studenti che ricordiamolo sono sempre i protagonisti della scuola ma devo dire che negli ultimi anni la scuola sta facendo passi da gigante proprio in questo percorso di avvicinamento alla generazione dei nostri giovani. Ci sono tanti progetti e percorsi di cittadinanza attiva legati alle STEM, legati alla digitalizzazione, all'internazionalizzazione quindi c'è un'apertura sicuramente della scuola più ampia di quanto succedeva in passato un'apertura quindi verso il diverso, guardando alle differenze guardando a chi ha una cultura diversa sempre con spirito critico e guardando quindi il mondo anche con un certo grado di responsabilità verso ciò che siamo noi e ciò che rappresenta l'altro quindi sicuramente la scuola si sta muovendo in una direzione nuova anche diciamo a seguito degli effetti della pandemia e con spirito di solidarietà devo dire in questi giorni anche accogliendo nelle proprie classe i ragazzi, i bambini esuli dall'Ucraina quindi diciamo che negli ultimi anni abbiamo assistito a grandi cambiamenti e grandi passi in avanti sicuramente. Ed ora parliamo dei festeggiamenti in onore di San Gerardo a Potenza oltre 1200 i figuranti pronti a sfilare per la parata dei turchi di domenica 29 maggio l'evento è stato presentato stamane nella sala conferenza le conferenze del Palazzo della Cultura i particolari da Alessandro Panuccio Come un nuovo inizio cresce l'attesa e la voglia di esserci domenica 29 maggio alla parata dei turchi che torna dopo due edizioni saltate a causa della pandemia una macchina imponente in moto da qualche mese per far rivivere sensazioni sopite ingredienti svelati nella sala conferenze del Palazzo della Cultura del Comune di Potenza La storica parata dei turchi è l'espressione più potente di tutta quanta la città in festa come sapete già da altre e tante dichiarazioni abbiamo molti partecipanti oltre 1200 di certo ci saranno tantissimi spettatori insieme con i figuranti generano questo mondo magico incantato tra due colonne che lo proteggono quelle della iaccara del fuoco che sprigiona tutti i nostri desideri fino al cielo è lo sforzo, la passione, la devozione dei portatori che innalzano verso il cielo il Tempietto di San Gerardo qui dentro tantissima magia dame, principi, principesse cavalieri a cavallo nobili, tanti bambini tante tarantelle, tantissimi tamburi quindi tantissima musica anche tanti fiori e tanti tanti dettagli che ci consentono con una lettura sempre creativa del disciplinare di rendere la parata ogni anno più bella le associazioni sono tornate in campo si sono messe in moto già da qualche settimana torniamo, siamo tornati già dall'inizio dell'anno raccogliendo le sottoscrizioni dei figuranti e adesso siamo in piena organizzazione dell'evento e quindi sarà come quello prima del 2019 che è stata l'ultima edizione in presenza tante anche le iniziative collaterali al via in queste ore rivolte soprattutto ai bambini l'attenzione particolare del Comitato Tecnico Scientifico del Comune di Potenza in questi anni è stata quella sempre rivolta verso i più piccoli che saranno diciamo i figuranti di domani in questi anni di pandemia l'attenzione massima è stata nel cercare di non abbandonare il ricordo e per predisporli bene a questo che potrebbe essere diciamo il nuovo inizio c'è stata questa iniziativa da parte dell'associazione Mantano grazie a Luigi Chiera e supportata dal Comitato Tecnico Scientifico e dall'amministrazione la realizzazione di un album di figurine sulla storica parata dei turchi un album che sarà consegnato e donato ai bambini delle classi quinte delle scuole primarie e poi successivamente sarà presente anche nelle edicole della città si partirà come sempre dallo Stadio Viviani per arrivare nel centro storico del capoluogo la parata sarà il momento clou della parte laica della festa in onore del patrono San Gerardo lunedì 30 maggio spazio a quella religiosa con la processione per le vie del centro in vista della festività patronale già da oggi a Potenza le scale mobili prima armellini chiuderanno a mezzanotte così come quelle di Santa Lucia a lato Tammone mentre lato via Mazzini resteranno aperte fino alle 2 sabato e domenica le scale mobili resteranno tutte aperte fino alle 2 gli ascensori sabato chiuderanno alle 21 e domenica alle 19 e sono tantissimi gli eventi di avvicinamento al 30 maggio quando nel capoluogo si celebra San Gerardo ieri sera per le vie della città è tornata la storica pedalata dei turchi manifestazione giunta alla sesta edizione promossa da ciclo stile FIAB di Potenza con raduno e partenza dal ponte romano sul basento e arrivo in largo Santa Lucia a Portasalsa dove i cicloamatori sono stati accolti dai portatori del santo e dai canti ai balli a cura dell'associazione Iatrida la storica pedalata dei turchi è un modo per vivere la città in festa ma anche per ribadire il diritto a strade sicure e adeguate ascoltiamo l'intervista a Manuela Lapenta di ciclo stile FIAB del collega Donato Carbonella ormai è arrivato alla sesta edizione questo nostro modo di vivere le festività ci siamo accorti sei anni fa proprio di quanto fosse più semplice vivere la festa patronale in bici anziché in macchina visto che c'erano comunque c'è lo spazio da dedicare alla parata ci si muove più difficilmente in auto e lì è stato proprio l'inizio di questa iniziativa che poi ha sempre maggiori persone che partecipano perché è evidente che c'è una voglia di stare all'aria aperta di muoversi anche in bicicletta e per noi è un modo per ribadire che abbiamo diritto agli spazi urbani che meritiamo bicicletta però tutti i giorni il consiglio è quello per chi naturalmente può di optare per una scelta green e salutare certo, il nostro motto è una macchina in meno perché adesso con le bici a pedalata assistita assolutamente si può sostituire il mezzo privato la macchina con la bicicletta e devo dire che in una città come la nostra con le sue distanze, con i suoi spazi è davvero preferibile c'è il modello di quartiere 15 minuti città 15 minuti di solito questo si applica nelle grandi città solo nei quartieri noi lo possiamo applicare all'intera città ed è davvero troppo, più comodo e più bello muoversi in bicicletta e concludiamo con il calcio di Serie D il Francavilla conquista la finale dei playoff battuta la Nocerina in rimonta domenica la sfida conclusiva contro il Bitonto sentiamo Luigi Santopietro è un Francavilla senza più né limiti né confini l'undici di Mister Ragno con una rimonta di forza e carattere contro la Nocerina raggiunge la finale playoff ed ha ulteriore lustro a un campionato già di altissimo profilo chiuso al secondo posto nella regular season i Lucani partono forte con Croce che costringe Benditti alla parata in Bacher subito dopo il portiere ospite si salta sull'incornata di Ferrante Nolè sbaglia il tap-in il primo squillo della Nocerina è di Dammacco sterzata improvvisa e piattone che finisce al lato di Poco prima dell'intervallo la Nocerina passa l'azione parte da un tiro sbagliato ma la pennellata a incrociare di Esposito è spettacolare nella ripresa Nolè scappa sulla fascia cross insidioso ma la papera di Benditti è clamorosa gol dell'1 a 1 rimonta completata in poco meno di 5 minuti Petrucetti la mette in mezzo l'incornata di Croce gonfia la rete per la seconda volta gli animi si accendono ne fa le spese l'allenatore dei Molossi espulso per proteste ultima opportunità per Croce poi arriva la fine del match domenica ultimo atto della stagione il Francavilla se la vedrà col Bitonto che nell'altra semifinale ha superato 2 a 1 il Fasano ed è tutto per questa edizione grazie per essere stati con noi e buona giornata grazie per la visione